ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse io sono valentina in arte valli makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi nel video di oggi parleremo di pennelli è una domanda che mi ponete spesso mi chiedete quali sono i pennelli che utilizzo regolarmente tenendo presente che ho fatto un video più o meno un anno e mezzo fa alcuni di questi pennelli ancora fanno parte della mia collezione altri invece si sono aggiunti nel corso del tempo prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come valli makeup lover anche su instagram e tiktok quindi se vi fa piacere venite a seguirmi anche lì e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi lasciate un like di supporto ma soprattutto commentate perché mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di youtube ma come sempre ho parlato abbastanza iniziamo subito con il video alcuni pennelli che vi farò vedere sono sporchi perché li ho utilizzati per truccarmi in questi giorni altri ovviamente sono quelli già lavati e direi di partire con quelli un pochino più low cost quando mi chiedete un set di pennelli low cost ma che sia abbastanza completo quindi abbia sia pennelli viso che è pennelli occhi che magari pennelli per la base io solitamente vi consiglio i pennelli jazz up ne prendo giusto un paio per farvi vedere questi per esempio sono dei pennelli occhi questi sono dei pennelli viso questo lo potete utilizzare per fare i contour diciamo che ce ne sono tanti il set che avevo preso io tempo addietro se non erro contiene o 18 o 24 pennelli il costo solitamente abbastanza basso nel senso che per quantità di pennelli non hanno un costo elevato sono dei pennelli che io possiedo ormai da due anni perché questi li ho comprati più o meno all'inizio della mia tra virgolette ragazze carriera qui sui social e devo dire che nel corso degli anni mi ci sono trovata benissimo non sono dei pennelli che perdono pelucchi io li lavo spesso tenete presente che mi trucco più giorni durante la settimana praticamente quasi tutti i giorni e ovviamente almeno una barra due volte alla settimana li lavo perché non utilizzo pennelli sporchi sul viso assolutamente altrimenti poi la mia skin care va a farsi benedire e ci sono in questo set per esempio dei pennelli a cui io non posso fare a meno come per esempio questo questo pennello per esempio ne prendo uno random per farvi capire che appunto fanno parte dei miei preferiti lo utilizzo sia per settare la base con la cipria ma anche per stendere i prodotti in polvere per scolpire quindi contour bronzing il blush talvolta l'utilizzo anche per l'illuminante quando voglio un effetto un pochino più diffuso e devo dire che a distanza di anni mi trovo a utilizzarlo sempre più spesso e a ricercarlo nei contenitori dove io ho tutti i pennelli perché mi ci trovo benissimo non so nell'effettivo se riusciate a trovare i pennelli singoli questo per esempio è il lux highlight numero 105 però posso dirvi che spesso nei set trovate ripetersi alcuni pennelli che loro hanno in gamma ci sono dei pennelli in ogni set ma non solo in questi di just up in generale che mi trovo ad utilizzare di meno come per esempio questo pennellino per il correttore non sono una grande amante della stesura del correttore con il pennello a meno che non voglia più coprenza e quindi questi pennelli mi ritrovo a utilizzarli di meno però questo dipende sempre dal vostro modo di truccarvi perché se siete persone che per esempio non utilizzano la sponge sicuramente questi tipi di pennello fanno al caso vostro perché vi facilitano tantissimo la stesura del prodotto non lasciano strisce strane non fanno macchia perché comunque li ho provati prima di parlarvene e trovo che se siete amanti appunto dell'utilizzo dei pennelli per fare tutta la vostra base sono top un pennello che utilizzo spesso per fare la mia base soprattutto quando voglio che il pigmento sia più forte quindi che per esempio il bronzer il blush siano più accesi e non quell'effetto aerografato che piace tanto a me che ottengo con la spugnetta utilizzo questo pennello come vedete è un po cicciotto e potete utilizzarlo per esempio anche per il fondotinta se avete la pazienza di utilizzare un pennello così piccino e secondo me è molto adatto a sfumare i prodotti in crema perché andate a tamponare fate dei movimenti circolari e in tre secondi il prodotto è sfumato questo per esempio è un altro dei miei pennelli preferiti del set che vi sto mostrando tenete presente comunque che non sono una persona che si fossilizza sull'utilizzo dei pennelli nel senso adesso vi faccio un esempio ci sono dei pennelli che sono indicati per l'applicazione dell'illuminante ok magari sono piccini io cosa faccio li utilizzo anche sugli occhi non sono una persona che segue tanto le regole in questo senso intendo regole che non mi recano danno ok perché trovo comunque che i pennelli possano essere versatili nulla mi vieta di utilizzare per esempio un pennello da eyeliner come questo per le sopracciglia oppure un pennello di questo tipo che voi potreste utilizzare per esempio per stendere l'ombretto shimmer io magari lo utilizzo per fare la cat crease diciamo che non sono una persona che utilizza i pennelli solo per quello che c'è indicato sulla confezione o comunque la scritta sul pennello stesso ovvio è che se magari il makeup non riesce bene non posso dare la colpa ai pennelli ma a me che ho utilizzato un pennello per un altro tipo di lavoro sugli occhi o sul viso però io parto sempre dal presupposto che i pennelli siano molto molto versatili a seconda del modo di truccarsi di una persona quindi se state cercando un set di pennelli abbastanza completo che non costi un occhio della testa e magari vi state approcciando adesso al makeup vi posso consigliare questo set di Jessup ovviamente come al solito vi lascerò tutti i link dei prodotti disponibili nell'infobox così potete dargli un'occhiata il prossimo set che vi mostro l'ho pagato veramente pochissimo ed è uno dei set di cui vi parlo più spesso sul mio canale ed è un set di amazon vi faccio vedere tutti quelli che sono contenuti nel set allora questi sono quelli sporchi e questi sono quelli puliti ve li differenzio perché direte perché ce li ha su due mani diverse no perché uno sporco e uno è pulito il set completo quindi è questo come vedete ci sono varie misure questi pennellini sono molto molto piccini come anche questo anche questo qui non è tanto grande per esempio qui ne abbiamo uno angolato hanno delle forme diverse e delle grandezze diverse ovviamente a seconda dell'utilizzo ho comprato questi pennelli dopo un'attenta ricerca perché volevo dei pennelli molto piccini che mi permettessero di fare dei look molto grafici magari delle sfumature precise applicare i glitter in un punto preciso dell'occhio quindi cercavo qualcosa che fosse un pennello che si possa utilizzare per i dettagli e mi sono imbattuta in questo set di amazon ovvio è che ci sono anche dei pennelli molto più grandi come vedete questo è molto più grande rispetto a questo però vi posso dire che forse ho fatto l'acquisto del secolo sono dei pennelli che ho comprato più o meno due tre mesi fa e anche questi li ho lavati e stralavati e ho notato che le setole non sono cambiate sicuramente essendo dei pennelli un po fitti perché sono per i dettagli sono un po duretti ok non immaginatevi che vi facciano male agli occhi e intendo più duretti nel senso che sono più fitti e vi posso dire che mi piacciono un sacco perché riesco a fare dei dettagli che magari per esempio con dei semplici pennelli angolati di questo tipo non riuscirei a fare per esempio anche per fare le sfumature esterne che ho oggi sugli occhi ho utilizzato quel pennello piccino il pennello angolato per esempio mi aiuta sempre nella sfumatura esterna e non essendo troppo duro perché nell'effettivo guardate è morbidissimo il pennello riesco anche ad iniziare a sfumare l'ombretto scuro nella parte esterna e vi posso dire che per il costo che hanno mi hanno veramente sorpresa sono sicura di acquistarne altri anche se saranno uguali perché mi ritrovo sempre a cercarli nel contenitore dei pennelli perché sono quelli che utilizzo per primi perché davvero mi ci trovo benissimo non hanno nulla da invidiare ad altri pennelli che possiedo più costosi e quindi se state cercando un set di pennelli basic che vi permetta magari anche di fare dei make up un pochino più grafici ed elaborati secondo me non potete perderveli i prossimi pennelli che vi mostro sono dei pennelli che mi hanno inviato ci tengo a dirvelo però ovviamente ho avuto modo di testarli è un set molto piccino che possiede sia pennelli viso che pennelli occhi e sto parlando di questo set di pennelli di do color sono carinissimi hanno questo color azzurrino con le sfumature e il manico glitterato che mi fa impazzire allora vi posso dire che sicuramente questi due pennelli giganti non li utilizzo quasi mai perché per la forma del mio viso sono veramente grandi potrei utilizzarli per esempio per la cipria ma come vedete cioè è molto grande il pennello non sono solita utilizzare dei pennelli di queste dimensioni per il mio viso ma mi rendo conto che ci sono anche visi più grandi del mio e potrebbero fare al caso vostro ma invece mi ritrovo ad utilizzare tanto questi quattro questi tre sono dei pennelli occhi e questo è un pennello angolato per il viso a parte che sono dei pennelli iper morbidi veramente cioè voi quando li utilizzate sul sul viso e sugli occhi vi fanno le carezzine adoro e sono ripeto dei pennelli di buona qualità questo angolato lo utilizzo per scolpire in maniera precisa appunto la parte sotto lo zigomo la parte del blush lo sapete io solitamente quando faccio la base utilizzo un pennello per fare tutto perché mi piace tanto l'effetto diciamo che si crea miscelando i colori che è molto più naturale rispetto a staccare i vari prodotti con diversi pennelli e anche per quanto riguarda i pennelli occhi sono molto carini ovviamente dovete tenere presente che sono dei pennelli un po fitti quindi magari questo lo potete utilizzare per fare la transizione con dei colori non troppo pigmentati perché spesso il fattore macchia dipende anche dal tipo di pennello che voi andate ad utilizzare questo per esempio ripeto lo potete utilizzare nella parte della transizione per iniziare a dare struttura al makeup questo per esempio che è angolato come vedete lo potete utilizzare come l'altro che vi ho fatto vedere di amazon nell'esterno dell'occhio per essere più precisi con l'angolazione ovviamente è bello grandetto rispetto all'altro e questo lo potete utilizzare sempre come pennello per gli ombretti anche questi li ho lavati tante volte non ho trovato nessun tipo di difetto nel senso che non perdono pelucchi sono rimasti belli fiti non si sono diciamo aperti ci sono purtroppo dei tipi di pennelli come ad esempio questo questo è vecchissimo ve l'avevo mostrato anche nel video precedente avrà minimo minimo 15 anni perché li avevo comprati all'inizio in cui mi ero appassionata appunto al mondo del makeup tra lavaggi uno sull'altro fatti molto spesso per esempio questi essendo dei pennelli molto molto economici che non si trovano neanche più si sono praticamente diradati i peletti però continuo ad utilizzarli non mi trovo non trovo nessun tipo di problema nel senso che li utilizzo magari per fare la cat crease o per fare dei piccoli dettagli in cui non mi serve appunto alla pienezza del pennello e quindi ve li posso consigliare questi hanno sicuramente un costo leggermente più elevato rispetto a quelli di già sape quelli amazon però se siete alla ricerca di pennelli abbastanza appariscenti quindi vi piace anche l'aspetto proprio dei pennelli l'aspetto estetico dei pennelli ma che facciano anche loro dovere vi posso consigliare questi di do color e questi li trovate su pink panda i prossimi pennelli che vi mostro sono sempre pennelli che mi sono stati inviati ovviamente ve lo dico perché ripeto voglio essere trasparente con voi il fatto che mi vengano inviati non significa che il mio parere è suggestionato da questo assolutamente e vi voglio parlare appunto di questi pennelli che costicchiano nettamente di più però mi hanno veramente stupita ne prendo alcuni poi vi faccio vedere quelli che ho nell'altro varattolino che sono da lavare e sono i pennelli di maiani anche qui vi faccio vedere alcuni pennelli occhi e alcuni pennelli viso allora questi pennelli ripeto hanno un costo abbastanza elevato però sono nella pochettina che mi è stata inviata sono contenuti un bel po di pennelli mi sembra anche qui sui 18 pennelli e abbiamo dei pennelli viso e dei pennelli occhi anche qui abbiamo dei pennelli molto grandi che non utilizzo e anche qui abbiamo invece dei pennelli viso che mi fanno impazzire questo per esempio come l'altro lo utilizzo sempre per scolpire il viso però vi posso dire che la morbidezza di questi pennelli è infinita cioè io non so come farvi rendere conto cioè lo sfiarate e il pennello è iper iper morbido nonostante sia comunque un pennello fitto è ultra morbido anche questo proprio vi accarezza il viso e lo utilizzo ovviamente per le polveri e mi dà quell'effetto abbastanza naturale perché essendo fitto ma molto morbido non vi lascia nessun tipo di macchia assolutamente è molto bello come pennello questi per esempio sono quelli sporchi alcuni come vedete li ho utilizzati per i glitter altri per le sfumature questo che dovrebbe essere un pennello labbra come vi ho detto io non seguo le regole l'ho utilizzato per l'applicazione di uno shimmer all'interno dell'occhio e vi posso dire che mi ci sto trovando benissimo non mi fanno depositi di colore con gli ombretti riesco a sfumare facilmente tutti gli ombretti che utilizzo di solito quindi non trovo che il pennelli siano duri e non mi diano la possibilità appunto di truccarmi come faccio di solito ci sono certi pezzi che sono molto molto piccolini come per esempio questo che potete utilizzare sia all'interno dell'occhio ma anche per esempio qua sotto per sfumare magari la matita nera per impreziosire il look magari con qualche striscia di glitter è un pennellino di precisione molto molto comodo e rigido quindi comunque dovete tenere presente che se dovete fare lavori di certi tipi questo magari potrebbe non essere l'ideale però essendo rigido magari anche per fare delle righe di eyeliner per esempio o sfumare la matita secondo me va benissimo poi ci sono questi pennelli che sono dei pennelli occhi ma io li utilizzo molto molto spesso per la cat crease vi faccio vedere qui ne ho uno utilizzato vedete con il correttore e mi ci trovo bene perché sono dei pennelli comunque un po' rigidi questo pennello comunque non è iper morbido fa un po' di attrito col dito e questo mi permette di applicare in modo preciso il correttore per poi tagliare la piega nel set sono presenti ovviamente come vi ho detto pennelli viso pennelli occhi alcuni che uso di più alcuni che utilizzo di meno però mi sento di consigliarveli perché sono dei pennelli di buona fattura anche questi li ho stralavati e non ho trovato nessun tipo di problema quindi mi rendo conto che il costo è un po' più elevato però ne vale davvero la pena gli ultimi pennelli che vi faccio vedere sono forse tra i più costosi che possiedo per rapporto quantità pennelli e costo e ve ne avevo già parlato rientrano a far parte comunque dei miei preferiti e sono i pennelli di nabla ovviamente come sempre alcuni sono sporchi e alcuni sono puliti allora questi sono quelli puliti io possiedo due set di nabla il ruby set che è questo rosso che vedete qui è l'amethyst che è questo viola non ho acquistato nessun set per il viso a parte magari questo pennello che è per l'illuminante poi vi parlerò nel dettaglio anche di questo pennello e devo dirvi sinceramente che rientrano tra i miei preferiti ora vi faccio vedere quali sono quelli che utilizzo di più in assoluto di questi set questi sono i pennelli che utilizzo di più in assoluto soprattutto questi due a fiammifero perché le sfumature che riesco a fare con questi due pennelli sono sincera non riesco a farle con altri pennelli nel senso che non ho ancora trovato dei pennelli con questa forma e questa morbidezza che possano magari sostituirli o aggiungersi alla mia collezione perché sono iper precisi ora vi faccio un esempio con questi pennelli ok voi potreste creare un look con due sfumature con lo stesso ombretto ora vi spiego perché con un pennello di questo tipo per esempio potete iniziare a strutturare il make up facendo una bella sfumatura e poi una volta che avete dato quindi la prima parte della sfumatura all'esterno dell'occhio quindi vicino al sopracciglio per iniziare a strutturare il make up andate con lo stesso colore con questo pennello vi garantisco che il deposito di colore che si creerà quindi la sfumatura che si creerà sarà molto più satura rispetto a quella precedente quindi sembrerà proprio che voi abbiate utilizzato due pennelli questo tipo di pennello fa sì che si depositi il colore però sia molto molto preciso e vi dia una sfumatura netta che poi ovviamente voi potete sfumare con un altro pennello all'esterno questi due pennelli io li utilizzo tantissimo spesso mi trovo a lavarli ogni volta perché non ne ho altri di questa forma e di questa ovviamente qualità e sono sincera forse il set si vale tutti i soldi già solo per questi due pennelli in più aggiungiamoci il fatto che abbiamo questo pennellino di precisione come vedete è piccino piccino ma molto morbido che ad esempio ho utilizzato per sfumare la matita nera al di sotto dell'occhio ma potete utilizzarlo anche per fare una codina di eyeliner con la matita sfumata potete intensificare vicino alle ciglia e secondo me uno dei pennelli più piccoli che possiedo qua appunto di questi che ho qua davanti che fa veramente il suo dovere essendo un pennellino comunque molto morbido non fa macchia e non vi da neanche fastidio all'applicazione dell'ombretto non so se a voi capita di utilizzare per esempio dei pennelli piccini per sfumare come questo e magari essendo molto rigido quando passate vicino alla rimacigliare inferiore vi infastidisce o a volte magari vi graffia beh questo tipo di pennello secondo me può fare al caso vostro ed è contenuto ovviamente nell'amethyst set questi due pennelli a fiammifero sono uno dell'amethyst e uno del ruby quindi li trovate in entrambi i set e poi quelli che utilizzo di più sono questi due come vedete sono uno un pennello che dovrebbe essere per il correttore perché questo viene utilizzato per il correttore ma come sapete io lo utilizzo per gli occhi e l'altro lo utilizzo o per sfumare o per stendere magari gli shimmer sono sincera entrambi i set costicchiano perché mi rendo conto che comunque per la quantità di pennelli contenuti il prezzo inizia già a salire di più però per ora mi ci sto trovando benissimo ad eccezione di quello di cui vi parlavo all'inizio devo mettere la mano altrimenti non me lo mette a fuoco vedete come si è fatto il pennello che praticamente ha tutti i peletti frastagliati da una parte dall'altra ed è l'unico del set che mi ha fatto questo scherzo tenete presente che io lavo i pennelli con la classica saponetta di marsiglia ok questo metodo lo utilizzo da anni e poi utilizzo uno di quegli accessori con le varie puntine per miscelare bene il sapone al pennello e far iniziare a togliere tutta la parte di pigmento dell'ombretto del correttore comunque tutta la parte che dobbiamo pulire e l'unico che mi ha dato questo problema è questo qui non che mi crei disastri con il makeup perché è un semplice pennello da illuminante però comunque per il costo che è un po' mi infastidisce perché me lo aspetto da un pennello di qualità molto bassa ma non da un pennello di questo tipo però per quanto riguarda tutti gli altri pennelli di nabla non ho trovato questo difetto quindi presuppongo che magari questo è più portato ad avere i peletti che vanno un po' per i cavoli loro però ripeto se state cercando dei set sia per occhi che per base perché li trovate comunque differenziati e volete dei pennelli di qualità secondo me se andate su nabla fate centro o anche altri pennelli molto molto low cost che avevo acquistato alla lidl e mi trovo tuttora ad utilizzarli come per esempio questo fa parte di un set per essere dei pennelli comunque di bassa qualità passa termine il termine fanno veramente il loro dovere questi forse li possiedo da un annetto circa e ci sono vari tipi di pennelli che fanno parte tra i miei preferiti anche questo per esempio per applicare la cipria diciamo che l'idolo ogni tanto porta proprio dei bundle con vari pennelli e secondo me dovreste dargli un'occhiata come per esempio avevo acquistato questo pennello di winnie cosmetics questo qui ci dice che è un pennello per il fondotinta in polvere nella realtà io lo utilizzo anche per i fondotinta liquidi e per le bb cream quando voglio un pochino più di coprenza o quando per esempio il prodotto già in sé non è ultra coprente quindi utilizzo un pennello di questo tipo ma vi posso consigliare anche un altro tipo di pennello sempre da fondotinta che è questo del marchio melista solitamente lo trovate magari nei negozi di cinesi e anche questo qui è un pennello abbastanza fitto come vedete che utilizzo sempre per il fondotinta sono due pennelli ultra ultra low cost però devo comprarne altri perché mi ritrovo ad utilizzarli molto molto spesso perché ne valgono veramente la pena ripeto costano pochi euro ma fanno egregiamente il loro dovere e nonostante li abbia lavati e rilavati sono perfetti l'ultimo pennello che vi consiglio sempre da fondotinta è questo pennello molto particolare di she glam come vedete ha un foro al centro dove in teoria dovreste inserire il fondotinta però io lo utilizzo in modo classico metto il fondotinta sulla mano lo prelevo e poi lo stendo sul viso o magari prima tampono il fondotinta sul viso e poi lo stendo col pennello di questi ne possiedo due come vedete uno già usato e anche questo qui lo utilizzo con il fondotinta poco coprenti con le bb cream o quando voglio una coprenza un pochino più elevata anche questo ha un costo basso questo di she glam magari tende un po ad aprirsi non tantissimo non so se notate dalla camera che ci sono dei pelucchi svolazzanti vedete un po più lunghi diciamo che non è iper iper preciso però per il suo dovere va benissimo anche questo lavato e stralavato e mi ci trovo da dio bene penso di avervi fatto come si dice in sardo alla testa ad acqua perché ho parlato veramente tanto però ci tenevo davvero a mostrarvi quali sono i pennelli che utilizzo di più perché è una domanda che mi fate veramente molto spesso e ci tenevo ad aiutarvi a trovare magari un set di pennelli dal più economico al più costoso che potesse fare al caso vostro mi raccomando fatemi sapere nei commenti se tra questi pennelli c'è anche qualche vostro preferito o se possedete già qualcuno di questi set come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video anche per oggi è tutto io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video ciao raga